Damiano Cavalli, 26enne di Parma, è morto precipitando nel pomeriggio di giovedì 19 agosto sul pizzo Coca in Val Bondione. Gli uomini della sesta delegazione aerobica del soccorso alpino erano stati allertati intorno alle 19 di giovedì perché i familiari del giovane, non vedendolo rientrare, si erano allarmati. Dalla base di Cagliolo è decollato l'alisoccorso di Areu che ha tentato un primo avvicinamento, impedito però dalla nebbia fitta. Circa mezz'ora dopo è arrivato l'elicottero di Brescia che ha effettuato un sorvolo, ma con esito negativo. Quindi l'elicottero ha portato in quota le squadre territoriali della stazione di Val Bondione, una sulla cima di pizzo Coca e l'altra in una piazzola più in basso. Intorno alle 23 è stato sentito il suono del telefonino del ragazzo e quindi i tecnici si sono calati lungo un canale molto impervio per diverse decine di metri e hanno avvistato il corpo del giovane. Un miglioramento delle condizioni meteo ha consentito quindi l'avvicinamento dell'elicottero, il recupero della salma e il suo trasporto a Val Bondione. Nella giornata di venerdì 21 agosto ci sono stati altri due interventi dei tecnici del soccorso alpino a Valle Brembana, il primo alle 15 nel territorio del comune di Vedeseta per una donna di Ballabio di 51 anni che si era infortunata. Stava percorrendo il sentiero che porta dal rifugio Cesare Battisti ai piani di Artavaggio quando è scivolata e ha riportato una sospetta frattura a una caviglia. Una volta raggiunta e immobilizzata la donna è stata recuperata con il vericello e portata in ospedale. Attorno alle 16 è stato soccorso un ragazzo residente in provincia di Bergamo caduto con la bicicletta mentre scendeva dalla pista a Piazza Torre. È stato recuperato dall'elisoccorso di Sondrio di Areu e portato in ospedale. Nella serata di venerdì 20 agosto attorno alle 20 i vigili del fuoco di Darfo sono intervenuti su allerta del 112 sui monti di Teveno in comune di Vilminore in Valle di Scalve per soccorrere un cinquantenne di Dalmine in vacanza a Teveno rimasto boccato dal buio nella zona del Pizzo di Petto. L'uomo è stato raggiunto di vigili del fuoco con una marcia di circa due ore rifocillato ed è stato quindi aiutato a scendere la valle fino al paese.